La vera pace, noi lo sappiamo, non è un equilibrio tra forze contrarie. Non è una bella facciata dietro alla quale ci sono contrasti e divisioni. La pace è un impegno di tutti i giorni. Ma la pace è artigianale che si porta avanti a partire dal dono di Dio, dalla sua grazia che ci ha dato in Gesù Cristo. Nel tradizionale messaggio natalizio lo sguardo di Papa Francesco si è posato sui tanti conflitti che nel mondo spezzano e feriscono tante vite. Dalla loggia centrale della Basilica Vaticana, dove poi ha impartito la benedizione Urbi e Torbi, il Pontefice ha auspicato una vera pace per la Siria, per la Repubblica Centrafricana, troppo spesso dimenticata dagli uomini, per il Sud Sudan e la Nigeria, lacerata da continui attacchi che non risparmiano gli innocenti e gli indifesi, per la Terra Santa, dove israeliani e palestinesi faticano a raggiungere una piena intesa, per l'Iraq, colpito ancora da frequenti attentati. Papa Francesco ha chiesto poi al Signore della vita di proteggere quanti sono perseguitati a causa del suo nome, di donare speranza e conforto ai profughi e ai rifugiati, auspicando che tragedie come quella di Lampedusa non si verifichino mai più, di toccare il cuore di quanti sono coinvolti nella tratta degli esseri umani, di vegliare sui bambini troppe volte rapiti, feriti e uccisi nei conflitti armati o trasformati in soldati, sulle donne maltrattate, di posare uno sguardo benevolo sul pianeta, sfruttato in modo indiscriminato dalla cupidigia e dall'avidità degli uomini. Lasciamo che il nostro cuore si commuova davanti alla tenerezza di Dio, ha concluso Papa Francesco invitando tutti a non perdere il coraggio della preghiera. Abbiamo bisogno delle sue carezze che non fanno ferite ma danno forza. Quanto è potente la preghiera.